Vai Allora, due amici vanno in un bosco perché vogliono rapire uno scoiattolo Si camminano, ta 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 Arrivano nel bosco, a un certo punto camminano camminano e vedono uno scoiattolo Allora un amico prende, ta 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 sta arrampica Prende lo scoiattolo, sta per scappare e arriva la guardia forestale Madonna che si fa, che si fa, che si fa Uno prende e si lo mette nelle mutande Arriva la guardia forestale Ragazzi, cosa state facendo qua? Eh, stiamo qua a una camminata nel bosco, fa bene alla salute Mmm, va bene, va bene L'importante è che non prendiate gli scoiattoli, sono protetti Se li prendete vi faccio la multa Noi e loro, va bene, va bene Ma intanto il ragazzo con lo scoiattolo dentro sta facendo Ah, ah, così Ah A un certo punto tira un urlo Ah, lo prende e lo lancia via La guardia forestale fa Ragazzi, via, una bella multa Ta 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 verbale La guardia forestale va via E l'altro ragazzo fa Ma, ma, ma perché te lo sei tirato fuori? Ora la paghi fede è multa, sei un cretino Ma, se Finché ha scambiato le mie palline per due ghiande Ho resistito Finché ha scambiato il mio sedere per la sua tana Ho resistito, eh Ma quando ha cercato di portare le ghiande nella tana E non ho resistito più Ah, che dolore Grazie a tutti